Ciao ragazzi, sono Eva e mi trovo qui a Grado, il Sound of Wave Festival, insieme a Nari e Milane. Ciao a tutti! Insomma, ciao! Allora, è la vostra prima volta qui a Grado? Eh sì, è la nostra prima volta e gradiamo molto! Com'è la location? Io sono passato in bicicletta una volta, eh. Ah sì? Sì, sì, tempo fa. Qui l'avevi già vista, insomma? Da fuori, da fuori. Da fuori. Insomma, ragazzi, complimenti, so che siete in tour in America. Grande soddisfazione, no? L'abbiamo fatto, già due e questo è il terzo che andremo a fare a settembre e quindi sì, siamo molto contenti. In bocca al lupo, so insieme a voi ragazzi, insieme a Christian Marchi, avete contribuito all'Eletro in Italia. Insomma, come mai è arrivata così in ritardo rispetto all'Eletro del mondo? Eh, perché noi arriviamo sempre in ritardo. Dizia che l'Italia, un po'... Solitamente così accade, no? Mamma mia! Ragazzi, io, tutti noi vi conosciamo per le collaborazioni in Italia, in particolare con Alex Gaudino, ma quali altre collaborazioni state lavorando? Beh, eh, stiamo facendo collaborazioni con altri DJ italiani che sono i D-Layers, che abitano praticamente nella nostra zona, sono vicini, quindi sono di casa. E in più siamo in uscita con un disco, lo possiamo dire ormai, perché quando andremo in onda questo, in esclusiva, in esclusiva, in agosto usciremo con Tiesto. E D-Layers, e D-Layers insieme. Complimenti! Ragazzi, che dire, io vi lascio andare, è stato un emesso piacere, l'intervista è disponibile su Miss Matilda Blog e questo è Standovay Festival. Ciao! Evviva, evviva! Ciao! Buono, 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 buono. Buono, 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 buono